I vetri infranti dal calore, alcuni resti delle suppellettili bruciate dal fuoco, sono le tracce dell'incendio che riserra intorno alle 20 e 30 e divampato nell'appartamento al quinto piano di questo stabile a Borgo Ferrovia. Il ruogo fosse causato da un cortociccuvito aggredito in un baleno a alcuni ambienti dell'abitazione. Le fiamme, una densa nube di fumo, si vedevano dall'esterno, raccontano ancora scossi i condomini del palazzo di fronte. In casa, quando si sono spigionate le fiamme, c'era una coppia di anziani, Rosa e Giuseppe, di 73 e 71 anni, che da tempo risiedono nel quartiere ai due niputini. Providenziale l'intervento di Rosa, che appena accortasi del pericolo, del fumo che proveniva da una delle camere, ha tempestivamente allertato i vigili del fuoco, prima però ha messo a sicuro i bambini e il marito, aprendo la porta e facendo gli usciti dall'alloggio in abalia dell'incendio. I soccorritori si sono assicurati delle buone condizioni dei presenti, mentre i vigili del fuoco, azionando un autobus e una toscana, sono riusciti a domare l'incendio prima che le fiamme si propagassero in altri locali dell'appartamento. Sono un grosso spavento, ma anche la consapevolezza che poteva andare molto peggio e ieri sera la comunità di Borgoferrovia si è stretta la coppia di anziani, che visto anche i danni provocati dall'incendio, hanno trovato affetto e protezione dai familiari, grati ai vigili del fuoco e ai carabinieri, per come sono riusciti a gestire l'emergenza, l'abbraccio del quartiere, Rosa, non eroica, in una notte di paura e di alta tensione per Borgoferrovia. Grazie a tutti.